segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te direi di sì direi di sì anche perché è sua l'invenzione della parola patriota invece che cittadina e che è priva di senso perché chiunque appartiene a una a uno stato è una comunità e tiene per lo stato e la comunità per la quale al quale appartiene e quindi inventare l'idea che alcuni siano patriotti ma altri no è una perfetta invenzione e totale di stacco dalla realtà anche perché non ha non coincide con tutta con tutta la storia che abbiamo alle spalle dove patriota era poteva essere garibaldi o bazzini ma non qualunque cittadino che si diceva che a cui piaceva di dirsi italiano quindi è un'invenzione che in spagna trova il suo il suo il suo colpo il suo colpo di chiusura in un certo senso perché non significava nulla continua a non significare nulla e in spagna non significava e non significa nulla direttore della spagna non è in grado di governare perché non è neanche in grado di dire con esattezza che cosa vuole chi è e dove va direttore